Chi è l'autore che è morto come un personaggio di un suo poema? Tutti i segreti del cappotto di Gogol. Cosa ci faceva la moglie di Tolstoi in una sperduta stazioncina di provincia? E chi era quel bell'imbusto che camminava vestito di giallo per la mosca degli anni dieci? Perché Dostoevsky è morto due volte? E chi era Antosha C'è con te? E gli ingegneri di anime che cosa sono? La storia della telefonata che allungò la vita di Bulgakov. Io vi racconterò queste e altre cose che dovete assolutamente sapere sulla letteratura russa.